Che cosa farà il signor De Paoli allora? Che lo chiede a me? Se lo chiede si dia una risposta alternativa Signor De Paoli Faccio il sindaco E' lui il sindaco, eccolo, con la fascia tricolore Di quale città? Di Fiero di Primiero in provincia di Trento, del mio paese Che è il paese più piccolo d'Italia? È il comune più piccolo d'Italia per estensione di territorio Quanto è grande? 15 ettari 15 ettari, beh, ci saluti i suoi concittadini uno per uno